Dottoressa Non se ne vada! Uno di questi... Come si sente? Benissimo. Non è come gli altri nove. I suoi pazienti sono soltanto un po' scossi. È comprensibile. Era il mio cane. È sepolto nel giardino di mia madre. Morì quando avevo sei anni. Come ha fatto a trovarmi? Sa molte cose su di me. Lei è una sorella. Come dice? Perché non la chiama mai? Una donna dovrà scoprire che cosa è successo. È un tipo interessante, ma... Credo mi stia nascondendo qualcosa. Che cosa? È l'unico che la può aiutare. Andare a letto con i pazienti non è la terapia migliore. Farà di tutto perché ciò non accada mai. Davvero ancora non hai capito? A dicembre, la passione... Sta lontana da me, Claire! Sta lontana! E il mistero... Stanno sparendo uno dopo l'altro. Prendono il volo. Eric! Ann Hathaway. Patrick Wilson. Eric! Passengers. Mistero ad alta quota. Da dicembre al cinema. Da dicembre al cinema... Ma a tutti per la vista... Da dicembre al cinema... Il nostro canale...